Ciao Vixia, sono Luca Metal Vixia e volevo fare il canto di abbrirvi al compleanno, e ho trovato di te che sei una grandissima persona e un grande amico, ti faccio ancora tanti auguri e mi raccomando continui a non essere così pazzo. Buon compleanno diavolo, ti auguro tutto in mezzo e mi raccomando mandami un pezzo di torta zio, viva il rock! Ciao Cristiano, auguri di buon compleanno e spirito libero! Ciao, auguri di buon compleanno e sempre il rock è una bestia! Ciao Diablotex, ti voglio fare i miei auguri di compleanno, spero che questo compleanno l'abbia passato bene insieme a Youtube. Ti voglio fare i miei auguri di compleanno, ti voglio dire che tranquillo che così farai una bella scalata sul tubo e tante e molte più persone ti seguiranno. salirei di iscritti tranquillo, che tanto insieme a tutte queste persone che sono false, tu che non lo sei, spiccherai. Sian grande, ciao! Ciao a tutti ragazzi, allora vi ringrazio a tutti, oggi il 19 aprile è il mio compleanno, sono arrivato a 37 anni, vabbè, 37 anni vabbè ma è una grande, proprio in grande stile, quindi voglio ringraziare subito allora i quattro utenti, giustamente quattro iscritti al mio canale che mi hanno mandato il video messaggio di auguri, ma comunque ringrazio anche tutto il resto degli iscritti che magari non manderanno un video di auguri, ma che tanto poi faranno gli auguri scritto con un commento e a me mi sta bene lo stesso ragazzi, vi ringrazio veramente a tutti di cuore, passo subito con il salutare Luca Metal Brixia che è un grandissimo, ci parlo diciamo tutti i giorni, ci parlo, è un iscritto al mio canale, ma più che un iscritto, un amico perché ci parlo di videogiochi, di tutto, è veramente un grandissimo ragazzo, Luca ti ringrazio ancora, sei un grande, sei stato gentilissimo, e sei un pazzo come me perché è vero, è vero. Ciao grandissimo Luca Metal Brixia, ci sentiremo tanto anche più tardi credo, non c'è problema. Poi ringrazio Francesco Russo che dovrebbe essere Kakashi lì iscritto sul mio canale, che poi ha cambiato nick, spero di non sbagliare, grazie anche a te Francesco l'hai messa un po' lì sul rap, ma va benissimo anche se sei un direttante, è giusto che si inizia dal basso e poi si arriva tranquillamente in alto, ti ringrazio del video messaggio di auguri che mi hai mandato, perché è un grande gesto come tutti quelli che hanno mandato il video messaggio di auguri, e vabbè, è come tutti quelli che scriveranno auguri sotto al video, perché giustamente c'è magari chi non se la sente di fare un video, magari è così, io apprezzo lo stesso ragazzi, non vi preoccupate, non vi preoccupate, quindi ciao Francesco Russo, grazie anche a te, sei un grande, continua a seguirmi e va bene così. Poi c'è la mitica Shoji Rossella che è molto rock, ha intonato un pezzo di Lit Fiba, perché giustamente Rossella sa che sono un fan di Lit Fiba, la grande, quindi gli ha mollato, diciamo, gli ha messo lì due note di spirito, ecco, e ti ringrazio Rossella, ed è stato un pezzo molto rock, sì sì, poi l'ha fatto molto rockeggiante, ti ringrazio, è stata gentilissima, vabbè, come sempre, a volte parlo con lei anche di Xbox, parliamo di videogiochi, musica, perché anche lei è veramente una rocchettara, mica da poco ragazzi, è una rocchettara ma di quelle che in maniera molto pesante. Grazie ancora a Shoji, ciao Rossella, Rossella sarebbe Shoji, ragazzi, ecco, poi magari visitate anche il suo canale perché merita, ve lo dico io, fidatevi di Brado, Rossella sei stata grandissima, ti farò un po' di scuola sui Lit Fiba perché devi iniziare ad apprezzare i Lit Fiba. Grazie ancora per il tuo messaggio di auguri e adesso passo a ringraziare anche Loribro02 che è un ragazzo simpaticissimo che ci ho parlato fino ad oggi anche su, fino ad oggi, ieri su PSN mentre giocavamo anche, lui giocava altri giochi, io gioco il merito di questi occhiai ragazzi, sto facendo crediti a PES perché poi ci divertiremo, ecco, anche nel video messaggio il mio compleanno, l'ho dovuta buttare lì sul fattore PES, quindi grazie anche a te Loribro del tuo video messaggio per il mio compleanno, sono arrivato a 37 anni, spero di proseguire sempre con questo stile di pazzità anche a 38, 39, 40 e quelli che verranno. Quindi grazie ancora di cuore a tutti per i vostri auguri e tranquilli che anche il giorno del mio compleanno non vi lascerò senza gameplay, ecco, questo ve lo posso promettere tranquillamente, ragazzi, un saluto ancora a tutti al vostro Diablotex, grazie di cuore per i vostri video messaggi più i messaggi che arriveranno sotto a questo video, state sempre rock tutti e rock a bestia sempre, ciao fenomeni, yeah, sempre rock ragazzi. ciao 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 ciao